Sì è vero, abbiamo meritato il successo e adesso possiamo dire che l'Udinese è più forte con tutto il rispetto dello Scirocchi, ma bisogna dimostrarlo sul campo perché abbiamo trovato peraltro una squadra, la squadra bosniaca, più fresca di noi, di gamba, perché noi non possiamo pensare di essere al top della condizione. Ed è raro che una squadra sia più in palla di noi, ma noi sapevamo di non poter essere al 100%, noi volevamo essere al 100%. Essere riusciti a passare il turno con un punteggio netto, secondo me è un merito per dei ragazzi che hanno saputo rimanere in partita sia di là che di qua, quasi sempre, a parte un pezzo del secondo tempo della partita di andata. Sì, speriamo di fare bene anche il prossimo, cioè di passare il turno e di andare avanti in Europa, questo mi darà la possibilità di dare più soddisfazione a un gruppo che in questo momento è molto numeroso, vedremo, andiamo avanti di passo in passo.